Buongiorno, buona domenica e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Vedremo a breve le immagini di una grande discarica che si è creata purtroppo in zona Ferrara Nord e quella segnalata dagli ambientalisti, il Comune ha promesso che bonificherà la zona ma vedremo cosa è successo, ma parleremo anche della VM di Cento perché in settimana c'è stato un incontro con il Vice Ministro allo sviluppo economico per parlare del futuro dell'azienda che nel Centese occupa più di 900 persone più l'indotto, quindi riveste un ruolo molto importante nel tessuto economico ferrarese ma non solo e parleremo anche di diversi appuntamenti che stanno caratterizzando l'estate ferrarese ma apriamo questa edizione del telegiornale con la quarantesima storica medaglia olimpica che è targata Ferrara, medaglia per l'Italia che così porta appunto a 40 il proprio totale nel medagliere. Le ferraresi d'adozione Alessia Maurelli e Martina Sant'Andrea con le compagnie di squadra Duranti, Moguren e Centofanti hanno conquistato quindi la medaglia di bronzo questa notte ora italiana e invece in Giappone eravamo all'incirca a metà giornata nella prova, medaglia di bronzo nella prova squadra di ginnastica ritmica, terzo posto alle spalle di Bulgaria e Russia. Le due atlete che abbiamo citato prima Maurelli e Sant'Andrea sono cresciute nella palestra dell'associazione ginnastica estense Putinati di Ferrara di Liviaghetti e hanno così regalato all'Italia questo traguardo storico perché mai l'Italia aveva conquistato così tante medaglie un'olimpiade per le farfalle azzurre e una grande rivincita dopo il quarto posto di Rio 2016 un bronzo che vale quanto un oro così il sindaco della città estense Alan Fabri che aggiunge Ferrara abbraccia le farfalle e le aspetta soprattutto le due ferraresi per festeggiare insieme congratulazioni arrivano anche dall'assessore allo sport Andrea Maggi è un onore e una gioia grande celebrare atlete che a Ferrara sono cresciute sportivamente e agonisticamente ha detto l'assessore. Adesso però dobbiamo passare alla cronaca ancora un episodio di violenza sulle donne ancora Ferrara l'ultimo atto di violenza denunciata da parte di una donna nei confronti dell'uomo con cui conviveva da cinque anni è costato l'ammonimento da parte del questore di Ferrara Cesare Capocasa nei confronti appunto del compagno la donna ha anche denunciato nel corso degli anni minacce e continue violenze da parte dell'uomo il quale sostengono della questura estense era solito manifestare una gelosia morbosa nei confronti della compagna con la misura dell'ammonimento viene così intimato all'uomo di desistere da comportamenti atti che possano mettere in pericolo l'incolumità dei propri familiari ed è stato anche informato sui contenuti del protocollo Zeus che prevede un percorso di riabilitazione per gli autori di queste violenze e rimaniamo in città adesso a Ferrara per parlare appunto della discarica abusiva a cielo aperto nel nord della città forse una delle più grandi di Ferrara è quella scoperta ieri mattina dai volontari di un'associazione ambientalista mentre stavano ripulendo una delle tante zone dove sistematicamente vengono abbandonati rifiuti domestici ed inerti gli ambientalisti che chiedono più sorveglianza hanno subito alertato l'assessore all'ambiente del comune di Ferrara che ha già garantito la bonifica dell'area televisori, frigoriferi, forni, pneumatici e poi ancora sanitari guaine, sgabelli e bancali non è un nuovo punto di vendita commerciale ma una discarica a cielo aperto forse una delle più grandi della città a trovarla in queste ore i volontari dell'associazione difesa ambientale estense di Ferrara stamattina ci siamo recati in quattro unità presso via Mario Roffi che è situata nella periferia di Ferrara nella zona nord dietro a Ipertosano e alla Media World per intenderci è una zona che avevamo già pulito in passato trovando sempre grandi quantità di rifiuti abbandonati e a distanza di tre mesi oggi siamo tornati lì per vedere com'era la situazione ed era come al solito grave perché avevano continuato a sversare nel corso di questi mesi quindi abbiamo iniziato a raccogliere abbiamo raccogliato per metà piazzale che è praticamente un parcheggio quella zona che dà su un'estensione di diciamo campagna in colta e per puro caso abbiamo notato un sentiero lì in campagna chiuso con una sbarra più che una sbarra era una catena di ferro abbiamo deciso di provare a vedere cosa c'era lungo quel percorso e dopo 100-150 metri di percorso tutto ovviamente in mezzo da campagna abbiamo trovato la più grande discarica mai vista durante le nostre raccolte da 5 anni a questa parte un'area molto vasta di una sessantina di metri di estensione a nord di Ferrara con cumuli di sacchi di rifiuti domestici inerti eterniti in bella vista e che ora il comune dovrà bonificare abbiamo immediatamente avvisato l'assessore Balboni tramite una videochiamata di whatsapp per renderlo partecipe diciamo di ciò che avevamo appena trovato e anche lui era senza parole e comunque ci ha promesso una bonifica da parte del comune in tempi brevi però comunque sono tanti soldi da spendere per bonificare quel luogo e sono soldi che tutti noi pagheremo perché sono le tasse che i cittadini pagano la richiesta dei giovani ambientalisti e il potenziamento della videosorveglianza più controlli e più sanzioni perché ci sono determinate zone di Ferrara che sono secondo noi abbandonate a se stesse come appunto la zona di Ferrara Nord soprattutto o anche quella della piccola media industria di Cassana quindi e continuano a sversare ininterrottamente praticamente tutte le settimane cioè ogni proprio ogni due giorni ci sono sempre 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 rifiuti nuovi sacchi nuovi abbandonati di notte quindi noi chiediamo maggiore controllo e soprattutto chiediamo maggiori sanzioni verso questi incivili che abbandonano i propri rifiuti nelle campagne ferraresi una cinquantina ai giovani volontari che tutti i sabati si impegnano a tenere pulita la loro città il nostro gruppo si chiama Difesa Ambientale Estense che ha tre anni di vita e attualmente conta una cinquantina di iscritti diciamo ufficiali che partecipano anche alle giornate di raccolta e di promozione di volontariato mentre sulla pagina Facebook di Difesa Ambientale Estense conta quasi duemila iscritti quindi abbiamo un effettivo di cinquanta persone ma comunque anche un bel contorno di duemila persone che ci supportano anche appunto sulle nostre pagine social Andiamo adesso in provincia di Ferrara per la cronaca e per parlare della tragedia di ieri poco dopo le ore 13 a Lidoscacchi dove un turista 31enne è annegato mentre faceva il bagno in mare secondo le prime ricostruzioni l'uomo stava nuotando a diversi metri di distanza dalla spiaggia quando avrebbe iniziato ad annaspare segnalate le difficoltà dai bagnanti e dagli amici immediato l'intervento dei bagnini e dei sanitari arrivati anche con l'elisoccorso ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare le indagini sull'accaduto sono a cura della capitaneria di Porto Garibaldi e adesso rimaniamo in provincia ma parliamo di economia per parlare poi della questione VMD100 che è al centro dell'incontro è stata al centro dell'incontro giovedì scorso tra il vice ministro dello sviluppo economico Gilberto Picchetto Frattin e c'era anche all'incontro il sindaco della città del Guercino Fabrizio Toselli presenti anche il vice coordinatore regionale di Forza Italia Aldo Marchese e il coordinatore provinciale di Ferrara Matteo Fornasini obiettivo sensibilizzare il vice ministro sulla questione dello stabilimento VM il cui futuro desta più di qualche preoccupazione ai 900 lavoratori a cui si aggiunge l'indotto la situazione industriale centese dovrebbe essere portata all'attenzione del primo tavolo di governo disponibile il vice ministro ha chiesto anche di organizzare un incontro con i dipendenti per avere quante più informazioni possibile la possibilità di aprire un dialogo costante con i rappresentanti del governo è un grande segnale ha detto Toselli ed è iniziata in tutto il nord Italia la campagna 2021 del pomodoro da industria coltivati oltre 38.000 ettari cresce il biologico mentre è stato perso il 6% dei campi coltivati a pomodoro per colpa delle grandinate dei giorni scorsi sono 38.000 gli ettari coltivati nel nord Italia a pomodoro da industria di cui 6.748 a Ferrara seconda provincia del nord Italia con una crescita del biologico pari a 4.000 ettari a fare il punto con la raccolta in campo e la trasformazione in fabbrica oramai a pieno regime è l'organizzazione interprofessionale OI Pomodoro da industria del nord Italia le superfici effettive coltivate al 30 giugno sono state pari a 38.621 ettari di cui 4.022 a produzione biologica e 34.599 a produzione integrata ossia con un sistema a basso impatto ambientale il biologico infatti si conferma un trend crescente in risposta alle richieste di mercato raggiungendo il 10,4% delle superfici totali mentre il 6% dei campi coltivati ha subito danni per le recenti grandinate con una stima di una perdita di produzione tra le 100.000 e le 80.000 tonnellate di materia prima un avvio di campagna a quella del 2021 in un anno che non è stato dei più semplici sotto il profilo climatico alla data del primo agosto era stato raccolto il 7,33% dei quantitativi del pomodoro in campo con un ritardo dei quantitativi consegnati rispetto alla stessa data degli anni precedenti da sottolineare però che la materia prima consegnata è caratterizzata da un grado BRICS di 5,17 ben superiore alla media del periodo ed è un ottimo risultato in colore della bacca il report è stato redatto durante l'assemblea dell'organizzazione interprofessionale OI Pomodoro da Industria del Nord Italia che ha eletto il nuovo comitato di coordinamento espressione paritetica della componente agricola e di quella industriale un mandato fiduciario amplissimo che consentirà all'OI di proseguire sulla strada del rafforzamento e dello sviluppo delle attività a favore della filiera ha commentato il presidente Tiberio Rabboni emergenza coronavirus vediamo insieme i dati del bollettino più recente in attesa di quello odierno erano 51 i nuovi positivi 18 i nuovi guariti nel ferrarese in base appunto al bollettino di sabato a breve arriverà quello domenicale la situazione nelle parti covid dei due ospedali ferraresi con il delta è stabile ma però come detto questi dati si riferiscono al bollettino di ieri e vedremo oggi come si muoverà l'epidemia sul nostro territorio in questa estate e la crisi indotta dalla pandemia ha acuito per molte famiglie il problema della casa che nel nostro paese conta una politica ancora poco attenta alle situazioni e che richiederebbe interventi pubblici abbiamo chiesto al direttore di Hacer Ferrara se sul piano dell'edilizia residenziale pubblica ci sono delle novità nel PNRR in particolare a Ferrara se qui ci sono delle novità città che ha partecipato a un bando del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitale per molti anni perché mancavano le risorse per il recupero di questi alloggi vuoti e oggi questo stanziamento che vale per il 2021 dopo quello del 2020 conferma una quota importante di risorse per Ferrara 1.8 milione la seconda quota dopo quella di Bologna del resto Ferrara ha un patrimonio importante di alloggi di edilizia residenziale pubblica perché anche qui con i nostri 6.700 alloggi siamo il secondo territorio della regione proprio per dimensione di edilizia popolare con queste risorse come abbiamo fatto nel 2020 nei tempi previsti dalla delibera anzi direi in tempi record abbiamo recuperato 154 alloggi e molto probabile che lo stesso recupero quindi la stessa quantificazione ci sarà anche nel 2021 a cavallo tra il 2021 e il 2022 e a questi 150 alloggi circa da recuperare con le risorse straordinarie della regione dovremmo aggiungere anche quelle da fare con il budget di Acer che è un budget importante anche questo quindi io credo che alla fine diciamo alla metà del 2022 quando si sarà chiuso il programma noi raggiungeremo oltre 350 alloggi recuperati in più rispetto all'anno scorso diciamo quindi da questo punto di vista è importante che la regione come sta facendo ormai da un paio d'anni a questa parte confermi un programma di recupero di alloggi vuoti anche perché i dati ci dicono che le necessità da parte delle famiglie più povere che si sono impoverite in questi anni di post covid sono delle necessità in aumento quindi sono di più i nuclei che si sono impoveriti che hanno bisogno che avrebbero bisogno di un alloggio di edilizia residenziale pubblica parliamo proprio specificamente dell'edilizia pubblica per quello che riguarda il nostro paese l'Italia è abbastanza ferma su questo punto salvo qualche investimento in housing sociale ecco ci sono novità in vista che cosa possiamo dire di questo segmento allora possiamo dire che negli ultimi gli ultimi due anni sostanzialmente c'è stato una sorta di lento risveglio per quanto riguarda l'attenzione del nostro paese il nostro stato riguardo all'edilizia popolare il nostro paese ha circa il 4% di patrimonio abitativo sul totale dedicato appunto agli alloggi di edilizia residenziale pubblica abbiamo paesi come la Francia come l'Olanda come la stessa Inghilterra come la stessa Germania che hanno un patrimonio largamente superiore al nostro parliamo del 9-10% e via dicendo dunque ci sarebbe come dicevo prima la necessità di un recupero perché oggi c'è una domanda di edilizia popolare che è enormemente cresciuta in fase di post-covid e dicevo si stanno incominciando a vedere dei segni di risveglio per quanto riguarda lo stanziamento di risorse sia da parte delle regioni la nostra devo dire è in prima linea e sia da parte anche dei comuni e adesso torniamo in provincia di Ferrara per parlare di eventi andiamo esattamente a Codigoro all'Abbazia di Pomposa uno dei luoghi più visitati del Ferrarese dove da venerdì sera si sta assistendo a un vero e proprio spettacolo l'iniziativa si è tenuta anche ieri sera e concluderà questa tre giorni questa sera domenica per un evento che veramente ha richiamato tante persone all'Abbazia di Pomposa che complice anche l'estate si sono avvicinate a questo patrimonio artistico anche raggiungendoli dai lidi e comacchiesi ma vediamo le immagini di questo spettacolo La facciata principale dell'Abbazia di Pomposa a Codigoro come una gigantesca tela tridimensionale virtuale sulla quale si rincorrono immagini simboli visivi e loop sonori di straordinario impatto evocativo visivo ed acustico incentrati sull'ultimo viaggio di Dante per tre giorni da venerdì sera fino a domenica prende forma tutte le sere questo imponente videomapping opera che vuole essere una reinterpretazione poetico-visiva del periodo storico narrato un omaggio a Pomposa a Dante e a tutto il territorio dalle ore 21.30 alle 23.30 ogni 18 minuti si ripeterà la proiezione del videomapping da venerdì sera a domenica sera solo perché questa è un'iniziativa che fa parte del nostro progetto l'ultimo viaggio di Dante siamo partiti con questo progetto il 25 di marzo e stiamo continuando con le nostre iniziative e l'iniziativa porta il nome appunto preso dalla divina commedia in cui Dante cita beati gli occhi che vedono quello che voi osservate Andrea Bernadini che fa parte della visual project mapping hanno realizzato questi visual mapping in ben 11 monumenti unesco in tutto il mondo l'ultimo nel Qatar c'è stato uno studio approfondito storico sulla l'abbazia una una campagna di riproduzione in alta definizione di tutti i particolari all'interno e con queste nuove tecnologie di grafica tridimensionale cerchiamo di raccontare un po' di portare fuori da questo scrigno meraviglioso il tutto le emozioni del contenitore che c'è all'interno bene questo era l'ultimo servizio vi ricordo che torneremo nelle prossime edizioni del telegiornale anche sull'emergenza coronavirus perché le ultime settimane sono state caratterizzate da un aumento dei contagi quindi faremo il punto della situazione torneremo anche però sulle fantastiche medaglie di bronzo conquistate dalle farfalle italiane di cui due ferraresi da adozione parleremo anche ovviamente della WM di Cento perché c'è molto interesse per il futuro di questo stabilimento industriale che caratterizza buona parte del tessuto economico ferrarese ma vi ricordo che per rimanere aggiornati su tutto quello che accade a Ferrara e provincia ci sono i social network della tv di Ferrara potrete così rimanere aggiornati su tutto quello che accade in città e in provincia io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona domenica non domenica Grazie.